Ciao a tutti da Franci Remix, oggi siamo a Rocca Calascio. Questa è la chiesa di Rocca Calascio, uno dei castelli più belli d'Europa. Qui hanno girato il film di Lady Hawk e la storia che parla della principessa che si trasforma in falco. Quello è il campo imperatore. Guardate quanto è bello questo castello. Rocca Calascio è vicino a Santo Stefano, un borgo bellissimo. Siamo nel parco nazionale del Gran Sasso e vi ricordo che il castello è stato costruito nell'anno 1000. In Abruzzo ci sono più di 100 castelli e molti sono concentrati nella provincia dell'Aquila. Rocca Calascio faceva parte di una rete di castelli e quando arrivavano i nemici dal mare, la torre di Cerrano faceva dei segnali di fumo che arrivavano a altri castelli più interni all'Abruzzo. A sua volta arrivavano altri castelli che facevano sempre questi segnali di fumo che arrivavano al castello di Rocca Calascio, che così si poteva preparare per attaccare il nemico. Adesso andiamo al campo imperatore a mangiare i famosissimi arrosticini abruzzesi. Dopo essere andati sul castello di Rocca Calascio siamo venuti qua a Fonte Vetica, al famoso ristorante mucciante a cucinare le salsicce e gli arrosticini. Guardate! Venite! Dove sto cucinando le salsicce? Ecco ragazzi stiamo salendo il castello di Bominaco. Ecco ragazzi ci siamo quasi! Ecco che è arrivati sul castello di Bominaco dopo una grandissima scalata. Stiamo entrando all'interno. Finalmente siamo arrivati al castello di Bominaco e sotto si vede la piana di Navelli. Andiamo a visitare il castello. Andiamo a visitare il castello di Bominaco. Ciao ragazzi continuate a seguirmi così vi mostrerò le bellezze dell'Abruzzo. Ciao da FranCiramix! Ciao! 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 Grazie a tutti.